Come hai dato la notizia ieri sera? Con tanta tristezza perché l'ho conosciuto Marco a Cuba e mi è sembrato che tutti abbiamo colpa di questo successo perché guarda che quando Marco Pantani vinceva erano tutti vicini a lui e è morto solo, questo è un'arma per tutti noi per tutti noi, noi abbiamo tutti quanti colpi, te, io, lei Quando è stata l'ultima volta che l'hai sentito o come l'hai trovato? No, no, io da tanto che non lo sentivo, sentivo però abbiamo detto che ci vedevamo in Italia purtroppo si è andato però Pantani aveva bisogno della gente che ieri purtroppo non c'era guarda, questo è qualcosa di brutto per noi, per noi perché Pantani quando vinceva erano tutti vicini a lui ieri è morto solo, per quello abbiamo tutti, tutti quanti colpa di questo e Grazie a tutti.